La ditta Tomaino Graniti si occupa fin dal 1980 di estrarre e lavorare la diorite del Piemonte, distribuendo il prodotto finito in tutta Italia e all'estero. Grazie ad una cava di proprietà, maestranze esperte altamente qualificate e a macchinari all'avanguardia, l'azienda riesce a offrire un prodotto di altissima qualità estetica e fisica adatto alle più svariate applicazioni, in contesti di assoluta eccellenza. Questa particolare roccia, dal colore grigio chiaro, è infatti molto apprezzata per decorare abitazioni ed edifici pubblici, arredo urbano, cordolature e pavimenti per piazze. La ditta Tomaino Graniti riesce a lavorarla con estrema precisione grazie ai macchinari ad alta precisione a controllo numerico, tra cui un robot per lavorazioni speciali, coadiuvato da un laboratorio per rilievi e da un ufficio progettazione interni. Tomaino Graniti, tecnologia e stile made in Italy.